Una cascata nasce da una goccia, è questo lo slogan dell'Hydros Beach Cup, torneo di volley su sabbia partitoire Sant'Arpino al Parco Rodari. La manifestazione ha una durata di 13 giorni ed è diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto. 22 sono le squadre che si affronteranno tutti i giorni fino al 13 luglio, giorno in cui avranno luogo le finali.